Un saluto dal Tg della mobilità. Lasciare la bicicletta nella stazione della metropolitana in un box chiuso, monoposto, sorvegliato e prenotabile è quello che accadrà nella capitale nell'arco del prossimo anno grazie ad un progetto realizzato da Roma Servizi per la mobilità e il cui bando di gara è stato appena pubblicato. I primi ad essere costruiti saranno circa 400 posti, detti in gergo bike box, che sorgeranno in alcuni dei nodi strategici del trasporto pubblico come ad esempio i capolinea delle metropolitane A e B di Anagnina e Laurentina, ma anche le fermate San Paolo, Ponte Mammolo, Sant'Agnese, Annibaliano e Arco di Travertino. Complessivamente il progetto prevede la realizzazione di 2000 posti bike box in circa 40 fermate. Complessivamente il progetto prevede la realizzazione di 2000 posti bike box in circa 40 fermate.